Buongiorno Crotone, siamo all'incrocio di via Taras sul lungomare, diciamo l'area di via Alemagna Grecia. Allora vogliamo farvi vedere quest'area che è stata completamente ripulita. Ricordate c'erano rami di alberi potati, c'erano foglie secche, c'era un degrado veramente inaccettabile perché erano montagne e montagne di rifiuti. Adesso è tutto pulito e ci fa capire che forse qualcuno c'è che ha rispetto delle regole. Tutta quest'area è stata ripulita da Cordaz, il giocatore del Crotone e dal Suogero, che abitano in questa zona e che sono rimasti sconcertati nel vedere il disordine e il degrado che c'era. Si è preoccupato anche di farli togliere, ma in realtà è uno schiaffo veramente alla nostra città perché noi non riusciamo a ricordarci che dobbiamo avere rispetto delle regole e soprattutto quando si tratta di rifiuti non possiamo depositarli dove ci gira e come ci gira. Dobbiamo in qualche modo pensare che questa città merita di essere apprezzata per il suo passato storico e culturale, ma anche per una città che sa mettere in evidenza la sua civiltà. Cordaz ci ha dato una bella lezione, una lezione di cui tutti quanti noi dovremmo fare memoria per renderci conto che non si può sicuramente pensare di lasciare i rifiuti ingombranti e non per strada come se fosse normale.